Caligola, il regno breve e turbolento di un imperatore romano. Gaio Giulio Cesare Augusto Germanico, meglio conosciuto come Caligola, fu il terzo imperatore romano, regnante dal 37 al 41 d.C. La sua figura è rimasta impressa nella storia come quella di un tiranno crudele e megalomane, ma la sua complessità sfugge a una facile categorizzazione. Infanzia è ascesa al potere. Caligola nacque ad Anzio nel 12 d.C., figlio del celebre generale germanico e di Agrippina Maggiore. Trascorse l'infanzia in Germania al seguito del padre, guadagnandosi il soprannome di Caligola, che significa «stivaletto» per le calzature militari che indossava. Alla morte di Tiberio nel 37 d.C., Caligola, all'età di 24 anni, venne acclamato imperatore dai pretoriani e dal popolo. I primi mesi del suo regno furono caratterizzati da un'amministrazione saggia e generosa, che gli guadagnò la popolarità. Malattia e cambiamento Tuttavia, una grave malattia nel 37 d.C. cambiò radicalmente il suo carattere. Caligola divenne sospettoso, crudele e megalomane. Si fece chiamare i dio e pretese di essere adorato come tale. Spendeva il tesoro pubblico in opere faraoniche e giochi sfarzosi, perseguitava i suoi nemici con accuse false e condanne a morte. Eccesso e stravaganze. Le sue stravaganze includevano la costruzione di un ponte di barche tra Baie e Pozzuoli, la nomina del suo cavallo incitatus a senatore e l'incesto con le sue sorelle. Si dice che progettasse di invadere la Britannia e di dichiarare guerra al mare. Opposizione e assassinio. Le sue azioni tiranniche gli alienarono il sostegno del Senato e del popolo. Nel 41 d.C., una congiura di pretoriani lo assassinò, pugnalandolo trenta volte. Con la sua morte, la dinastia Giulio-Claudia si estinse e il potere passò a Claudio. Eredità La figura di Caligola è stata tramandata dalle fonti antiche come quella di un tiranno folle e sanguinario. Tuttavia, alcuni storici moderni mettono in discussione l'attendibilità di queste fonti, sostenendo che la sua immagine sia stata distorta per motivi politici. Conclusione. Indipendentemente dalla veridicità di tutti i racconti su di lui, Caligola rimane una figura enigmatica e affascinante della storia romana. Il suo breve regno è un esempio di come il potere assoluto possa corrompere anche la mente più lucida. Il suo breve regno è un esempio di come il potere assoluto possa corrompere anche la mente